dal cortile cosa si vede? dal cortile cosa si vede? se si vede? la scuola scuola Non potrebbe rendersi con l'autoponte? Io non sono un'esperta. C'è da dentro gente. Io non sono un'esperta. C'è da dentro la signora di là. Non potrebbe rendersi con l'autoponte. 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 Non potrebbe rendersi con l'autoponte.